Qualcosa si muove in merito alla copertura in amianto delle case popolari di via Malpighi. Elzunia CGL di Arezzo, il sindacato degli inquilini, ad annunciarlo. Il sindacato si era fatto carico delle richieste dei residenti preoccupati per i danni subiti dalla copertura in amianto nel tetto, in conseguenza alla violenta tempesta che lo scorso 13 luglio si era abbattuta sulla provincia aretina. A seguito di una specifica richiesta, i tecnici dell'ASL hanno effettuato un sopralluogo che ha riguardato lo stato complessivo del tetto. Verifica che ha dato luogo ad una relazione che si conclude con la richiesta di rimozione da programmare entro tre anni. Le aree danneggiate dovrebbero essere sistemate con interventi limitati, controllo delle aree, al fine di evitare danni ulteriori. Quindi un primo passo fatto, fanno sapere dal Sunia, che evidenzia un pericolo reale, una scadenza, dati che senza la mobilitazione degli abitanti sarebbe stata archiviata e presto dimenticata. Ora aspettiamo, conclude il Sunia, che i politici si muovano, che gli assessori regionali alle infrastrutture, Vincenzo Ceccarelli e alla sanità Stefania Saccardi, diano rapidamente la disponibilità e una data per l'incontro che il sindaco di Arezzo, su nostra richiesta, ha programmato senza poterne dar seguito. Intanto la mobilitazione continua e non si fermerà fin quando l'amianto sarà nel tetto.